Basta! Oh no, è proprio questo il mio scelto! Sceglia per la data possibile gli occhi non siamo! Fuggiamo! Ok, abbiamo rischuto tutto! Potevo rischondere tutto! Sì, ragazzi, stiamo in un nuovo video, vedremo alcune persone che possano subire, grazie a tutti ragazzi, sono Lugoso Mille e oggi siamo in chat. Grazie per aver guardato iscritto!